Marta che ci fai qui? Penso. E a che pensi? Alle mie pene d'amore. Niente che due olive alla scolana non possano risolvere. Perché non vieni con me ad Ascoli alla Scoliva Festival in programma dal 10 al 21 agosto? Dubito che mi tirerà su, però va bene. Scusa ma come è la voce così bassa? Ho cantato tutta la notte per prepararmi ai concerti in programma questa settimana a partire dal Jova Beach Party in programma sabato 6 agosto al Lido di Fermo, poi Manuel Agnelli ad Ancona l'11 agosto quando ci saranno anche Litfiva a Monte Urano e poi Noemi il 12 agosto a Teramo. Quanti impegni! Spero almeno che il 7 agosto tu sia libera per andare alla giostra della Quintana d'Ascoli. Certo, però il prossimo anno voglio vedere anche te nei panni di una delle nobildonne di Sestiere. Vedremo. Si entra nel vivo di agosto. Correte in edicola ad acquistare riveroggi estate. Troverete tutti gli eventi dal 6 al 12 agosto.